Quattro arresti, tre uomini e una donna da parte della polizia per la rapina a mano armata compiuta lo scorso novembre ai danni di un dipendente di una ditta di videopoker. A eseguire i provvedimenti è stata la squadra mobile di Pescara. Il colpo fu messo a segno nei pressi del bar dove la vittima aveva ritirato l'incasso. Il 6 novembre scorso due malviventi di cui uno armato di pistole e volto travisato con mascherine, cappuccio e accento locale hanno rapinato un dipendente della Romagna Giochi che stava effettuando il giro del ritiro del contante negli apparecchi gestiti nel pescarese. Davanti al bar la nuova torretta in via Reale a Pescara l'addetto è stato affrontato dalla coppia che sotto la minaccia delle armi si è fatta consegnare le chiavi della Panda vanno utilizzata per il ritiro degli incassi circa 25 mila euro a bordo della quale i due si sono allontanati. La Panda con la pistola priva del caricatore è stata rinvenuta poi dalla polizia in via San Marco e grazie all'aiuto di un testimone gli agenti sono riusciti a individuare anche l'auto pulita usata dai rapinatori per la definitiva fuga, una 500L trovata sotto un cavalcavia in strada vecchia a Fontanelle. Sono seguite indagini incrociate con l'analisi dei filmati di videosorveglianza, dei tracciati GPS e altri elementi che hanno permesso di stringere il cerchio attorno a quattro persone destinatarie di provvedimenti cautelari per rapina aggravata un 26enne e un 20enne di Pescara entrambi pregiudicati ritenuti gli autori materiali della rapina finiti in carcere anche con l'accusa di porto abusivo di arma. I domiciliari sono finiti un 32enne di Pescara e una 36enne del posto accusata anche di simulazione di reato avendo denunciato falsamente il furto della stessa autovettura malviventi che hanno lasciato per strada 6.000 euro dei 25.000, Dante Cosentino, dirigente della mobile di Pescara. Probabilmente disturbati dalla forte presenza della polizia che si è diretta subito sul luogo dove poi è stata rinvenuta la macchina cosiddetta pulita. Evidentemente spaventati dall'arrivo delle forze di polizia loro hanno ritenuto di abbandonare parte del bottino anche sul manto erboso circostante lì in zona Fontanella. Le indagini proseguono, riteniamo appunto che il gruppo sia più ampio sperando di dare un nome e un volto anche agli altri complici.